Questo è sicuramente il più preoccupante Forse dovremmo comprare anche a lui un tablet Ah, adesso dici che dobbiamo comprargli il tablet? Io sono tranquilla, ma non lo troverete Oscar è fatto come gli uccelli, era stanco di stare a terra ed è volato tra le nuvole Oscar! 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 Lei crede che sia giusto creare degli automi a posto di uomini? Perché volete che vostro figlio sia diverso? È escluso, è escluso dal gruppo, ecco Oscar! 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 Vostra figlia dice che è il cielo Eravamo vicini Io mi sono distratto al cellulare Marta Ci siamo distratti Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!